Sento un'emozione profonda, il perché lo capiamo e lo capite tutti, grazie come italiano al Presidente dell'Università, come italiano e come europeo. A mio giudizio lascia un modo e uno stile di adempiere a altissime funzioni pubbliche, molto rigoroso. Che è il contrario dell'inseguimento del consenso, il contrario della demagogia, ma è il fare delle cose per il bene del Paese senza inseguire la popolarità.